Sindaco, Città Sant'Angelo non è da meno degli altri comuni della regione Abruzzo e anche lì il Covid sta facendo numeri importanti purtroppo, possiamo dirlo. Sì, noi abbiamo sotto controllo tramite il nostro gruppo di medici di base del territorio che ci forniscono costantemente e ci aggiungono costantemente sull'azione del Covid all'interno del nostro territorio. La recrudescenza è importante, ci sono tante persone che oggi purtroppo stanno affrontando questa battaglia, naturalmente la maggior parte, se non la stragrande maggioranza e non vorrei dire proprio la totalità delle persone è a casa, quindi comunque senza grandi sintomi. Questo naturalmente è portato anche dalla campagna vaccinale effettuata. Teniamo sotto controllo la situazione, cerchiamo di mantenere il distanziamento ed evitare l'assembramento. Io credo che bisogna continuare a vaccinarsi perché i vaccini sono la protezione totale verso questo virus, il che significa che ci permette di affrontare un post-virus in maniera molto più soft, dall'altra parte riuscire a mantenere i giusti atteggiamenti e i giusti comportamenti. 1.800 ragazzi e studenti sul territorio, dalla primaria fino alle scuole superiori. Noi stiamo organizzando insieme di concerto con l'Asle della regione Abruzzo uno screening con i tamponi su tutta quanta la popolazione scolastica. Abbiamo e devo ringraziare i Dio ad oggi e fino ad oggi non avuto grandi situazioni, grandi focolai nelle nostre scuole. Questo naturalmente è portato anche grazie alla sensibilità delle nostre dirigenti e uno studio proficuo degli spazi che noi abbiamo. Oggi stiamo finendo di costruire le ultime quattro aule di un plesso che aveva delle criticità per gli spazi ridotti. Questo significa che dobbiamo riuscire a prevenire perché curare naturalmente ci costa molto di più.